Questa sera abbiamo approfittato della presenza della visita del Ministro Lupi per esporre i nostri problemi, i problemi di riviera trasporti, infatti oggi c'è stata la disdetta della contrattazione di secondo livello sia normativa che economica e il cuneo di un'avvertenza che va avanti da quasi un anno e che purtroppo è scociata in un mancato accordo il 7 d'aprile da parte dell'azienda in regione e che oggi ha avuto il culmine con quest'atto unilaterale da parte di riviera trasporti con la disdetta della contrattazione normativa ed economica di secondo livello. Il Ministro Lupi questa sera ci ha ascoltato, ha voluto sapere tutta la situazione, si è parlato anche dell'agenzia, dell'agenzia unica regionale, quindi della prospettiva della creazione di questa agenzia unica regionale e quindi di un bando di gara unico a livello regionale. Noi abbiamo espresso le nostre perplessità per quanto riguarda le risorse, visto che questo processo dovrà essere un processo costruito e gestito e anche affiancato da risorse per fare in modo che le aziende liguri arrivino vive a questo bando di gara e non arrivino invece spacchettate o con dei tagli, degli ulteriori tagli di linee per mancanza di risorse. Quindi il Ministro Lupi si è reso disponibile di contattare la settimana prossima l'assessore della sportivesco per trovare una soluzione quanto riguarda le risorse mancate.